Vedo che questa mostra dedicata al Carnevale di Fogliano ha come sede l'outlet dove siamo. Allora, il Carnevale è a Fogliano e le occasioni, quelle che vengono chiamate volgarmente eventi, saranno qui. Qui, in dimensione mimetica, c'è un'aula, una sala, che è predisposta per contenere delle cose che hanno a che fare con l'invenzione e con l'arte. Siccome Fogliano è un luogo di un grande Carnevale che ha una storia che oggi in qualche modo si commemora, l'idea di portare questi abiti da festa carnevalesca, che fra qualche giorno saranno a sfilare nelle piazze, magari in altre versioni, è comunque una commemorazione di una storia che in questo presente commemorativo trova il suo spazio naturale. E poi dentro ci sono una serie di costumi per il Carnevale di Fogliano. Sono costumi anche essi, potremmo dire, postmoderni, perché non fingono di essere antichi, ma hanno l'aria di modelli antichi rivisti oggi.